bonjour ben trovati sul canale jacobo di levitali parliamo di libri oggi voglio recensirvi un libro del 2018 di mario giordano l'italia non è più italiana così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro paese ok partendo dal presupposto che a me mario giordano sta abbastanza qui per in particolare le uscite che ha fatto negli ultimi quattro anni dove all'inizio ha preso una posizione poi ha fatto quello che denunciava certe situazioni nel suo programma fuori dal coro quindi io giordano comunque poca stima è uno si denuncia le cose però poi è sempre opposizione controllata è sempre parte del problema però ci dà delle informazioni ci da ci riporta dei fatti e questo libro obiettivamente fa impressione quando lo leggete sono 160 pagine giù di lì e restate proprio vi cade la mascella cioè non si riesce a leggere più di 10 pagine di fila perché ci sono talmente tanti nomi talmente tante cifre che vi chiedete ma veramente è così ma veramente cioè cos'è rimasto di questo paese cos'è rimasto di italiano perché io avrò letto centinaia forse migliaia di nomi di aziende comunque famose che non sono più italiane sono tutte state svendute chiuse acquistate integrate tutte da fondi stranieri americani turchi cinesi quello che volete c'è stato svenduto tutto negli ultimi decenni è una cosa incredibile qua nella copertina qua dietro dice il made in italy non è più italiano ogni 48 ore una nostra azienda passa in mani straniere non siamo più padroni a casa nostra le mafie straniere colpiscono sei volte al giorno questo infatti lui dice che c'è una cifra ufficiale di quanti crimini vengono denunciati ogni giorno ufficialmente sono sei al giorno mi pare parlarsi della mafia nigeriana in quella per quella specifica cifra poi parla del cibo come i cibi siano anche la nostra cucina sia rischio parla degli insetti schifato dice come è possibile che tutta questa promozione di cibi etnici tra cui gli insetti ormai vogliono farci mangiare gli insetti che schifo che schifo fa ridere perché quando uno legge i libri dopo questo è il 2018 dice cavolo nel 2018 a giordano gli insetti facevano schifo chissà cosa direbbe adesso visto che adesso sono proprio anche propagandati come il cibo del futuro che ci salverà dal climate change ok e poi infine chi conclude dando delle statistiche sugli italiani che se ne vanno all'estero dicendo che c'è un italiano ogni cinque minuti che parte e se ne va e questo era nel 2018 infatti ve lo dico lui come cifre ci riporta pagina 160 ci dice che nel 2017 secondo il rapporto della fondazione migrante se se ne sono andati ufficialmente all'estero 128 mila italiani cioè 350 al giorno cioè 14 l'ora cioè uno ogni cinque minuti ovviamente sono molti di più perché quelli registrati all'aere sono la minoranza la maggioranza non si iscrive all'aere e tuttora non si iscrivono quindi cifre molto importanti 128 mila è poca roba mi ricordo che qualche mese fa ho letto che le ultime cifre erano forse il doppio e il triplo quindi 128 mila nel 2017 era ancora poco figuratevi e lui lo denunciava già lo denunciava dicendo riportando una storia degna di merdaia dove dice che sulla provincia pavese che io conosco bene perché è la mia terra grande provincia pavese c'è la foto di un giovane simone perna che annuncia l'addio alla società nativa farò il professore nel bahrain dice simone ha 33 anni gli anni di gesù una laurea in dietistica un master in nostrizione un dottorato in sanità pubblica e statistica un'esterienza importante all'istituto santa margherita di pavia e oltre 60 articoli pubblicati su riviste quindi come al solito il classico italiano che ha fatto qualsiasi corso universitario master cazzi e mazzi e ovviamente non ha combinato nulla perché da un lato il mercato del lavoro italiano fa schifo dall'altro vabbè e quindi dice una preparazione solida insomma riconoscimento di alto livello eppure spiega qui in italia non per me non ci sono opportunità ma va chi l'avrebbe mai detto dal settembre 2018 lavora per degli sceicchi nel bahrain poi sono andato a guardare su internet su linkedin e lui ha lavorato lì fino al 2021 mi pare poi è tornato in merdalia forse adesso è a milano non so fare cosa tale simone perna e però qua lo vende come coordina un corso universitario al college of science e poi dice cos'altro ci dice intervista a cirillo marcolino presidente di conf industria ci dice che qua non c'è futuro per i giovani questo qua un manager imprenditore sti ragazzi poi ci danno un po di cifre qua ne abbiamo un'altra sentite questa sogna cappelli scrive repubblica di sua figlia eclizia ma che non è eclizia che si è da poco trasferito in sudafrica per lavorare c'è c'è chi fa il pendolare con cinisello balsamo pavia chi va in sudafrica giusto ha una laura un master ma è dovuta andare a cape town per trovare il suo primo contratto a tempo indeterminato sono felice per lei ma piena di rabbia per questo paese che ha abbandonato i giovani lo sfogo ha una certa ecco molti altri genitori scrivono il quotidiano raccontando i loro figli all'estero loro frustrazione mista a dissuazione i dolori delle cose eccetera eccetera qua abbiamo brunella rallo 64 anni mamma napoletiana che ha fatto mamma di cervello in fuga parla che c'è il figlio in australia è partito da matera dice che non trovava lavoro a matera chi l'avrebbe mai detto ma adesso guadagna 10 mila euro al mese in australia che bravo ragazzi che cervello in fuga e quindi niente quindi ci parla degli italiani all'estero ci parla di tutte le aziende vendute e svendute io ho preso qualche nota per curiosità ve la dico ma dovete leggervelo voi per esempio la peroni famosa birra è stata fondata a vigeva non lo sapevo nel 1896 è stata venduta ai giapponesi 120 170 anni dopo quindi se la matematica non mi non mi tradisce deve essere stata venduta pochi anni prima di questo libro 1856 sarà in forse intendeva dire 160 anni dopo comunque la venduta ai giapponesi la peroni non è più italiana la pernigotti famosi cioccolatine non è più italiana venduta ai turchi nel 2013 poi c'era anche la dainese che per chi motocicletta moto e cina robe così venduta anche lei poi aziende di farmaceutica la carlo erba dicono era molto famosa molto importante venduta agli svedesi un sacco di altre aziende vendute tutto venduto svenduto e venduto e svenduto si parla di come noi fossimo delle grandi eccellenze in campo chimico farmaceutico motori tutto quello che volete poi si parla del cibo denuncia come la globalizzazione abbia fatto più danni che altro in italia perché ci ha portato a lasciare marcire i limoni siciliani nelle campagne perché dobbiamo comparli dal cile dove probabilmente costano meno e quindi li andiamo ordinare da lì dobbiamo buttare via le olive pugliesi che sono buonissime per prendere quelle della tunisia dobbiamo buttare via i pomodori anche quelli mari del sud eccetera e prenderli dal marocco il pesce una volta era una roba italiana adesso dice di recente l'80 per cento del pesce arriva dall'estero e questo ha causato la svendita di 6.000 pescherecci la perdita di 18.000 posti di lavoro quindi giordano dice che la globalizzazione ci ha fatto solo male perché non avevamo nessuna protezione ai nostri prodotti e quindi siamo stati schiacciati dai prezzi concorrenziali di paesi che hanno una mano d'opera a prezzo zero e che costa meno importare i limoni dal cile farli attraversare l'oceano con tutta la co2 che portano tutto l'inquinamento e lo spreco di risorse che prenderli dalla sicilia perché se no sai potremmo dare lavoro ai siciliani potremmo avere una situazione decorosa per molte famiglie invece no dobbiamo prenderli dal cile e se non bastasse vi permetto di aggiungere voi molti di voi che amano l'europa ringraziatele perché comunque anche grazie all'europa che siamo finiti a comprare prodotti da paesi stranieri quando li abbiamo tutti in casa sono più buoni sarebbero chilometro praticamente zero invece li facciamo arrivare in aereo in nave ecco i container perché noi abbiamo l'europa che ci dice le dimensioni di quanto deve essere grande una zucchina un cetriolo ovviamente i cetrioli più grossi sono più gli italiani piacciono quindi tra la combinazione tra l'europa la globalizzazione no limits eccetera il nostro il nostro mercato regionale nostra produzione di prodotti ovviamente è stata una vittima come molte altre aziende perché la globalizzazione è una merda nonostante abbiamo i vari neoliberisti il mercato libero è giusto che uno compri le magliette fatte in vietnam dal bambino sfruttato e poi la trasporti attraverso il mare l'oceano lo porti in europa o in inghilterra e te lo vendano 99 centesimi che fare che grande bella cosa complimenti oppure tutte le fabbriche italiane che sono state delocalizzate in jugoslavia piuttosto che in romania in polonia in spagna in marocco perché costava meno gli operai costavano meno se il governo non interviene questo succede ma sapete il neoliberismo questa religione dei mercati libri eccetera è incriticabile ovviamente qualcuno mi dirà che non capisco niente ma a me cosa me ne frega a fronte di gente che mi dirà che è giusto la globalizzazione va bene io gli dico avete ragione andate al lab vaccinale fatevi un'altra dose fa parte anche quella del progetto di un liberista globalizzante e il dosare la gente quindi andate a dosarvi così tra qualche anno ci sarà meno traffico sulle strade e mi fate un bel piacere nulla quindi come al solito non ho resistito da fare i miei commenti crudeli libro bello carino è una denuncia continua vi farà molto incazzare valutate voi però bisogna saperle le cose bisogna leggere bisogna informarsi per capire il livello di bassezza e di declino che sta affrontando il nostro paese e il fatto che è irrecuperabile ormai la situazione faccia schifo dieci anni fa quando partivo io figuratevi adesso l'italia non è più italiana è stata svenduta da una combinazione di politici corrotti sistemi e mercati che favoriscono a certi paesi danneggiano altri e fondamentalmente favoriscono sempre i padroni del denaro e della moneta e i grandi capitali questo funziona così chi non lo capisce è un subumano che giustamente dovrebbe farsi una dose di richiamo e nulla ci vediamo al prossimo video informatevi e non lasciatevi condizionare dalla tv e dalle fesserie leggetevi qualche libro anche se di mario giordano informatevi ok alla prossima ciao